Ehi, non c'è squadra più forte della Juve, forza Juve! Ciao per tutti i ragazzi, oggi facciamo Finger Football Challenge! Io sarò la Juventus e lui sarà il Milan, mio fratellino! Olè, 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 olè! Facciamo vedere i premi, chi vincerà potrà scegliere uno di questi premi Gorgeous, lol, tifa 3, 6, 5, cucciolotti, vai contro te, Juve, mascia e pasta furba Abbiamo anche un premio bellissimo che è la pasta furba di Sbabam! Andiamo negli spogliatori per preparare una squadra! Fazzamirà! Ciao, ciao! Ecco che le squadre Juventus-Milan sono pronte per entrare in campo! Scendete in campo ragazzi e presentatemi! Ciao, io sono Ronaldo De... Della Juventus! E poi c'è Suso del Milan, infatti, dove sei Suso? Suso, Suso, Suso! Suso è fuori campo! Allora, tra pochi istanti inizia la partita, al calcio d'inizio potete partire! Suso, entra in campo! Primo tempo! 2, 1! Vai Milan! Fuori, rimessa, rimessa del Milan! Suso, vai! Dai! La Juve si difende bene! Ho fatto i mani, farò! Mani, mani, mani! Punizione della Juventus! Mettiti in porta! Tira, punizione! Fuori, bellissima punizione di Ronaldo! Ok, vai! Facciamo muoverci? Sì, vai! Scontro centrocampo, la Juve passa! Palo, palo, palo della Juventus! Sai che per fare ha un tuo gol! Per la scappa, Suso! Ecco che sì! Vai, vai! Vai! Prendi la palla! Dai! Via! Rimessa! Deee! 1-1! Vai! Fuori, tiro! Scontro, ovviamente del Milan! Avanti! Si difende bene il Milan! Si difende bene! Wahoo! Gol, gol! 2-1 per la Juventus! Ahhhh!!!! Forza Juve, forza Juve, forza Juve Fino primo tempo 2 a 1, no adesso c'è il secondo Cambio campo? Ehi, i giocatori si riuscano a campo, cade il tabellone cade il tabellone per fortuna Ragazzi un po' di far play A centro campo? Per favore le squadre a centro campo Si parte con il secondo tempo al fischio dell'arbitro Sì, abbiamo fatto il gol! 2 a 2! Quello cos'era? Non è valido ragazzi quello Quello non era valido Vero che non era valido quel gol? Allora 3 a 2 nel 3 Milan Ma cos'è questo? Non è valido Mi perde Spettate Un attimo Da centro campo 3 a 3 si parte dal centro campo Riparte la Juventus Gol Olè 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 Non era gol, è a palo, palo, palo. No, era gol, era gol. Io ho visto un palo. Io ho visto il gol. E saranno i telespettatori a decidere. Sì, era gol. Sì, era gol, primo, però. Non era gol. Sì. Ha fatto così. Lui si stava preparando, io ho tirato, poi... Comunque... E poi hai visto... L'arbitro non dà gol, ma la Juventus vince lo stesso. 5 a 4. No, io in verità dovrei arrivare a 6. No, no. Non è nulla. Eccoci nel dopo partita la Juventus vincitrice italiana Cristian, protagonista di questo match. Aiuto! Come è andata la partita? Aiuto! Molto bene. Fammi vedere il giocatore. Scegli pure il tuo premio, quale scegli? Questa e questa. Cosa hai scelto? Stoio, ti riletto, via, scioglio! Pasta furba e massimo orso. Io mi lascio prima a massimo. Io mi prendo le LOL. Premio di consolazione, una bustina delle LOL e poi... Anche tu la pasta furba? Sì. Che colore? L'asso a cielo. E tu prendi l'asso. L'asso a cielo. E io il blu. Come si apre? Blu spento. Aprite la pasta furba. Ma è dura. E così diventa anche morbida. Sto riscaldando per fare lo scudetto della Juve. E tu, Nicola? La pizza. Del napolitano. Dei Napoli. Allora, la pasta furba è di sbabamme e si trova l'edicola. Finito lo scudetto. Finito la mia pizza. Allora, ecco, finito il scudetto. Finito la mia pizza. Spero che questo vi sia piaciuto. Ciao, ciao, da Krik, 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 Krik. Ciao, ciao. Ciao, ciao.